Presidio di CGL e CISL davanti alla Prefettura per la situazione dei lavoratori di Agazzi. Siete appena rientrati dal colloquio con Sua Eccellenza il Prefetto, come è andata? Sostanzialmente l'Istituto ha riconosciuto il fatto che la comunicazione del cambio turno dovesse essere fatta in altri termini e di fatto quindi ha differito il cambio del turno che andava ad impattare sulla vita dei lavoratori in modo importante. Restano aperti molti altri problemi legati sicuramente al nuovo contratto nazionale che non sta andando, tant'è che abbiamo indetto uno sciopero per il 23 settembre a livello nazionale e sulle possibili ripercussioni che comunque questo cambiamento di turno produrrà nell'organico perché una maggior diluizione dell'organico all'interno di più giorni, secondo il nostro avviso, comporterà di lasciare la struttura scoperta. Abbiamo un contratto scaduto da 12 anni con uno sciopero già dichiarato per il 23 settembre quindi l'abbiamo fatto presente al Prefetto, abbiamo fatto presente che quei mutamenti di tipo organizzativo che ci volevano imporre nella struttura dei ragazzi in qualche modo sono stati stoppati abbiamo accolto in qualche modo la disponibilità di entrare nel merito di questi cambiamenti comunque la situazione è complicata, è una struttura importante nel nostro territorio credo che sia giusto che i lavoratori siano tutelati fino in fondo dall'organizzazione sindacale faremo sicuramente un'assemblea davanti alla struttura con tutti i lavoratori perché non possiamo assolutamente abbassare la guardia su questi temi che sono veramente importanti.